cari amici di gogo verde bentornati oggi come potete vedere ho portato un nuovo attrezzo che la nuova forbice fatta dalla volpi in collaborazione con l'azienda spagnola kamikaze ed è in questo caso il modello kv 500 il modello kv 500 è il 501 sono i modelli tra virgolette più piccoli della gamma hanno una capacità di taglio di 30 mm con una batteria questa la più compatta è il modello 501 un po più grande che hanno una capacità di 5 6 ore lavorative per quanto riguarda la batteria più piccola è un 8 10 ore a seconda dell'utilizzo per la batteria più grande l'attrezzo ha un peso di 710 grammi ha una velocità di taglio molto elevata a quanto pare è un grilletto progressivo anche se in realtà ha una corso un po corta per i miei gusti ma lo andremo a vedere poi a bancone prova il corpo risulta molto robusto la costruzione in poliamide e fibra di carbonio per la parte superiore ha un cordone a 6 pin direi per quanto riguarda il collegamento e lo possiamo vedere direttamente qui svitando questa vite esatto come potete vedere è un cordone a 6 pin di collegamento è una batteria molto compatta la batteria che la casa dichiara di un peso di 1 kg e 100 grammi che è questo qua con una capacità di carica di 127,6 watt ora la tensione di esercizio di 44 volt ma è relativa importante è poi l'utilizzo dell'attrezzo e l'attrezzo ci è sembrato per il prezzo a cui viene proposta palido ovviamente a prezzi più alti poi corrisponderanno in base alla concorrenza attrezzature un po più raffinate un po più elaborate poiché per esempio la batteria più piccola di questa attrezza ha un indicatore di carica tac per esempio non hai una percentuale hai comunque una progressione sì della batteria della forbice del taglio della forbice ma comunque non è progressiva come gli attrezzi di media alta gamma delle altre aziende andiamo a vederli insieme al bancone prova ed eccoci al nostro banco prova allora come possiamo vedere la dotazione della valigetta comprende la forbice la batteria con il cavo di alimentazione il cavo per il caricabatterie con il caricabatterie e il suo jack gli accessori per contenere per esempio il porta forbici le imbragature degli accessori che servono aiutare a tenere il filo fermo per esempio nel braccio è questa comoda la scatolina che comprende accessori per la filatura della lama per la lubrificazione per la pulizia comoda da tenere nella nostra valigetta andiamo a vedere la nostra batteria più nel dettaglio possiamo vedere che il collegamento a 6 pin del cavo di collegamento con le due asole di di forma diversa per facilitare l'operazione di collegamento senza sbagliarsi possiamo vedere per esempio abbiamo appunto le due asole di dimensioni differenti andiamo a collegare il cavo di collegamento una forbice spenta da una parte così come dall'altra parte viene riflesso sempre questo tipo di collegamento con asola superiore più grande e asola inferiore più piccola accendiamo il nostro attrezzo possiamo già vedere dal bip ci dice che il collegamento è ok è la percentuale di carica in questo caso sarà saremo intorno al 75 per cento apriamo il grilletto per attivare le forbici ecco qua devo ancora farsi un po di pratica ragazzi scusate e andiamo a vedere come si comporta nell'operazione di taglio come potete vedere come spiegato prima la progressività cambia in questo caso avendo a disposizione un ramo possiamo vedere che adesso corrisponde molto di più la posizione del dito alla posizione della lama anche un taglio in sbieco viene effettuato abbastanza comodamente in questo caso dobbiamo aiutarci ho tenuto troppo premuto il pulsante di blocco della lama a due clic in questo caso per tenere blocco per tenere per aprire la lama da posizione bloccata in questo caso ovvio non è un ramo di vite quindi abbiamo un legno un po più duro un più grosso però come potete vedere il taglio viene fatto in tutta semplicità non abbiamo le stesse prestazioni di una modello top di gamma o media gamma nelle altre case ma comunque considerando anche il prezzo d'attacco di questa forbice è un ottimo attrezzo che aiuta nelle operazioni di potatura quello che sorprende soprattutto la velocità di taglio di questa attrezza è veramente molto veloce quindi nell'operazione di pulizia più semplice abbiamo un attrezzo che permette di tagliare comodamente in tutta facilità i legni permessi dalla grandezza del taglio della lama allora ad un prezzo d'attacco di 700 euro questa forbice mi sento di consigliarla a chiunque ripeto abbia la necessità di avere un attrezzo un potatore elettronico togliendo quindi lavoro alla mano togliendo quindi fatica e successivamente anche danni a medio lungo termine spero di essere stato abbastanza esaustivo in questo video se avete delle domande potete porcele all'interno della sezione commenti di youtube e vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci al prossimo video ciao